E' uno dei misteri, o se preferite, dei delitti irrisolti che caratterizzano la città di Cosenza. Parliamo del caso relativo alla morte di Roberta Lanzino, la studentessa di Rende, violentata e uccisa a Torre Mezzo di Falconara, poco meno di 29 anni fa, precisamente il 26 luglio del 1988. Il processo di primo grado, lo ricordiamo, è terminato con l'assoluzione di tutti gli imputati, ovvero di Alfredo Sansone e dei figli Franco e Remo. Secondo l'accusa, infatti, Alfredo e Franco Sansone erano accusati di aver violentato e ucciso la ragazza in complicità con Luigi Carbone, presunta vittima di Lupara Bianca, che sempre, secondo la tese dell'accusa, sarebbe stato ucciso da Alfredo Sansone assieme ai figli Franco e Remo, proprio perché avrebbe voluto rivelare ciò che sapeva del delitto Lanzino. Il processo ora prosegue con il secondo grado di giudizio e la Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro ha deciso che si farà un confronto fra i campioni di DNA acquisiti e quello prelevato sotto il capo di Roberta Lanzino. Il processo è stato aggiornato al prossimo 9 maggio.